Fun! Numbers! Questo resort sulla neve è bello, ma mi sento un po'... poco vestita... Pensi di essere tu quella poco vestita? Questa mappa è come un nerf per me! Ehi, ragazzi! Il killer! No, aspettate! Beh, salva a tutti! Fai attenzione, il killer è qui! Hai ragione! Forza, andiamo! Aspetta, che sta succedendo? No, è lui il killer! Ah, non importa! So come ci si sente, amico! Sì, anch'io! Cosa? Fatto! Questo li intrappolerà! Ho individuato l'obiettivo, è il cacciatore! Passo! Ricevuto! Sto già lavorando al primo generatore! Meg sta purificando il suo totem! Non di nuovo! Qualcuno mi può dare una mano? Oh, non importa! Falso allarme! Dovrai controllare il mio totem! Oh, certo! L'obiettivo ora è diretto verso di voi! Ci serve più tempo! Ricevuto! Ehi, sono qui! Sono qui! Ehm... Ok! Ho delle schegge in bocca! T-Bagging in corso! Ripeto! T-Bagging in corso! Ricevuto! Abbiamo quasi finito con l'ultimo generatore! Davvero maturo! Quando avrà rotto questo bancale, la pagherai cara! Ah! Non vedo nulla! Sono cieco! Sono cieco! Oh, aspetta! Vedo di nuovo ora! Ah! Perché continua ad accadere? Generatori ripartiti! Io aprirò il cancello sud! Dwight! Tu aprirai il cancello nord! Contaci! Claudette, tieni l'obiettivo occupato! Ok, ma sbrigatevi! Mi sono rimasti solo altri venti bancali! Morto stecchito! Colpo decisivo! Cura istantanea! E il tuo tempo prezioso! Oddio! Riesco a sentirti! Il cancello nord è aperto! Incontriamoci là per esultare! Negativo! Userò la botola! Non penso proprio! Ho già trovato la botola! Passo! Ah! Sei proprio una Meg! Si va in scena! Ora ti ho... Presa! Ehm... Ma dove sei? No! Sul serio! Dove sei? C'è qualcuno lì? Sto io alla larga! Guarda che ho una mannaia! Sto aspettando che te ne vada Claudette! Beh... Anch'io! La botola è mia! Ci ho già messo sopra il mio sedere! Ehi Killer! Meg è da questa parte! Di qua! Va bene! Me ne vado! Sei proprio una Claudette! Proprio così! Porta via quel culo da Meg! Ehi! Cos'era tutto quel trambusto? Oh! Sei tu! Oh no! Signor Killer! Mi hai trovato! Fattele e basta! Odio fare stupidi scontri per la botola! In più immagino volesse pugnalarmi! Si! Era mia intenzione farlo! Oh! Sta zitta! Io ho finito accette! Io prendere altre accette! Ah! I miei sensi da detective si stanno risvegliando! Quelle accette sono piccole e in ogni armadietto! Vero! 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 Quindi perché non le usiamo? Eh... Casa! Tutto ciò che sappiamo fare sono i lupi! E il pugnalare! Non dimenticarti il pugnalare! Giusto! Ma guardate! Guardate! Diamine Dwight! Scusami! Accette! Io... Continuo a non capire! Bene! Vi darò una dimostrazione! Prendiamo le accette in questo modo! E le lanciamo! Proprio così! Oh! 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 Tu hai fatto questo per me? Eeeh... Certo! Cos'è questo rumore? Un aspirapolvere? Ah! Ah! Non mi fai paura! Ho visto di tutto! Non avevo intenzione di spaventarti! È solo che... Voglio strapparti la testa e mangiarti la faccia! Oh! 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 Scusami! Che sono... Un po'... Vei volare! Oh! Sarà onesto, tu? Sei piuttosto carina! Oh! E' molto dolce da parte di una persona morta! In effetti! Penso di essere morto davvero! Anche io! Anche io! Avrei una domanda da farti! Oh! Cosa? Perché ti colpisci da sola? Non è vero! Perché ti colpisci da sola? Non è vero! Oh! Guarda! Ora ti stai prendendo a calci! Basta! Perché ti stai prendendo a calci? Perché ti stai prendendo a calci? Ti prego! Fermati! Ding ding ding! Vorrei annunciare l'arrivo di un nuovo membro! O membri! La legione! Grazie, grazie! Ma potete chiamarmi Frank? Dove sono i tuoi compagni? Possiamo apparire solo uno alla volta? Ha senso? Allora, Frank, qual è il tuo potere speciale? Si chiama frenesia brutale! Oh, mi piace come suona! E che cosa fa? Mi permette di colpire i sopravvissuti! Cosa? Ma tipo, più sopravvissuti molteplici volte! Oh! Sempre ammesso che siano tutti insieme! Ah, ma vanno giù istantaneamente, vero? Dimmi di sì! No! Loro scappano via! Cosa? Ma... Meglio che sia una cosa buona! Hanno bisogno di rattopparsi! Cos'è il rattoppo? Ora devono cucire, forse? Per caso devono cucirsi i propri vestiti? No! È come curarsi, ma con un timer! Oh, quindi se non si curano in tempo vanno giù! Non esattamente! Ci rinuncio! Se si stanno curando quando il tempo scade, possono continuare a curarsi! E inseguirli non fa altro che fermare il loro timer! A meno che non fai quel trucco del moonwalk! Ok, non lo dico molto spesso, ma vedi di levarti dal cazzo, Frank! Ma l'entità ci ha scelti! Beh, allora vai nell'angolino! Aspetta, fermati, torna qui! Ecco fatto! Bene, ora sparisci dalla mia vista! Bene! Creeremo un nostro club chiamato la... la... la legione! Vi chiamate già la legione! Oh! Allora la... la lega delle legioni! Come ti pare? Beh, Freddy, pare tu non sia più il peggior killer! Sì! Freddy è tornato! Avrei una lista di cambiamenti che vorrei mi fossero implementati! Ahem, 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 numero uno! Nooo! La seduta è tolta! Ding ding ding! Prima che scriviate un commento orribile, la legione non è male, se in buone mani! Va bene, grazie mille, arrivederci! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! Ringraziamo la nostra collaboratrice e collega Chiara per averci aiutato con questo video, i suoi link in descrizione! E ora passiamo in sala muppa-ruppa-dubidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-ba! Allora, io che sono Luffy, ci tenevo a salutare Blackfire! Wow, quell'arena parla! Allora, io che sono Oc, ci tenevo a salutare Anthony Carmine! Ciao ragazzo, fai il bravo, mi raccomando! E segui la serie di me e Ash, perché se ne vedranno delle belle, oh sì! Ciao, io sono Kermit e volevo salutare Danilo Sullo! Ciao Danilo! Io e Cell ti aspettiamo sulla sua arena, non mancare! Ciao, io sono Batman e volevo salutare XXFabioXX6055TV! Ciao Fabio, aiutami a sconfiggere il crimine a Gotham!